Allora, benvenuti ragazzi, sono Satapine e oggi faremo un video sempre dei giochi che riguardano i disegni ma questo è sempre online, cioè è simile a quello che ho fatto l'altra volta ma qua cioè il tempo è divino, quella è la vergatura, vabbè però sempre di disegni si parla Allora, Nick, Sassamine Pubblico Caluta, pat pat, emme l, emme l, emme l No, con la n, no Pen, no, aspetta, pen no Tenura, bu Oh, tenura, tenura Provià, è metà parola Caruta, no, vaffanculo, va Ah, tocca a lui, no Inderveniamo il cu Vediamo, sempre sei lettere Gatto Mi butto sul gatto Gatto Gatto, senza la P No, bicchier Gatto, senza la P Gatto, senza la P Eh, non ho scritto Ah, lì ha ingerito Tazza Tazza E' un po' da selleve io Dai Alpego, alpego Primo, secondo, terzo e quattro A posto E' un po' da selleve io E' un po' da selleve io Oh, ricordo C'è un cane qua In questo giuco Che cavolo c'è No, no, cancidiamo, cancidiamo Sì, da Tocca a Lion Maschio E' un po' da selleve io Che cavolo è il vostro gusto Una scarpina 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 Eh, babù, scalpa Sì, siamo là Dai, torna a meno qualche punto Dai, mi serve Sto senza niente Scarpina Scarpina Vediamo questa Che cavolo disegno ML, ML, ML Succo di frutta Latte Non lo so V V ML Vavu Allora, quattro lettere Muoniti Come fanno loro Che prima Avevano scritto Muoniti a me Mano E' un po' da Eh, non me l'ho fatto Intaminare Non è giusto Così Però Eh Ah no Me l'ho fatto Valì Me l'ho fatto L'ultimo Round Ragazzi Che tocca Alla caruta La carutina Ehi, più lunga Non la potevate fare La miseria Ma Matrima Matrimonio 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 Eh Eh La 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 L'ha proprio scritta Cioè Ma questo Non è De Mander Cioè Se ha scelto L'accusa La deve disegnare No La deve Scrire Il Fox meglio, è facilizzata la cosa allora, lingua casco medio medio, ma lo scrivo M 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 Dio Amo M M M M M M M Niente Ragazza Single M Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non ci posso creerlo. Il pisello lo vado a disegnare. No, voglio dire. Questo va a pisello a me. Il pisello lo vado a disegnare. Non ci posso creerlo. Non mi dite che è vera sta cosa. No, non ci posso creerlo. Ah, è fatti. A me non vale. Però questo potrei spagagnare. Oh, yeah. Grazie. Piccolo la baña. Piccolo la baña, piccolo la baña, piccolo la baña, piccolo la baña. Piccolo la baña, piccolo la baña. Piccolo la baña, piccolo la baña. Caruta, sta bene, come ti chiami su lista? Non sono a parte i tuoi. Guarda, cosa cazzo è questa una gente qua? Palazzo! Che cosa sta a scrivere, a volte ma no, solo! Ragazzo! Questo è quello che lo facciamo, stiamo dando un punto! E' una cosa così, non mi fanno più disegnare a me, devo intornare sempre! E' una cosa così! E' una cosa così, non mi fanno più disegnare! E' una cosa così! Se mi dici come ti chiami su lista ti mando le foto! Non voglio essere mandata le foto! Non me ne fai con la sigla! E' una cosa così! l'ho già scoperto che li chiamavi lì, senza che lo scrivi beh dai, fatemi segnare che qua non vedo l'ore che ho, finalmente vieni io l'ore non disegno, devo solo scrivere allora b i e non la posso insegnare, una bietola l'ho scritto qual è il problema? bieto bieto punto bieto punto bieto 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 notifiche sui nuovi video ci becchiamo a questo nuovo video bello a tutti ragazzi